i miei mani sono fondamentali sono l'anello congiungente tra le mie idee la mia testa e la materia da plasmare in questo caso le mie fibre è una vita che disegno e le mie mani sono i miei occhi vedo un video con le mani ti occupi e smetti di preoccuparti con le mani ti occupi andate con il dadsame e ti occupi e ti occupi e smetti di preoccuparti E voilà! Sous-titrage ST' 501